E partirà proprio a Fano dal prossimo 13 marzo un corso gratuito dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni che vogliono avvicinarsi al mondo dell'impresa digitale. L'appuntamento si svolgerà nella sede della Digital Smart in zona Codma a Rosciano. Ma sentiamo di che cosa si tratta nelle prossime interviste. Estro è il nome del progetto gratuito che partirà a breve a Fano che mira a fornire a ragazzi le competenze necessarie e opportunità per entrare nel mondo del mercato digitale. Di che cosa si tratta? Il progetto Estro è un corso di formazione completamente gratuito per i ragazzi dai 18 ai 35 anni che vogliono avvicinarsi al mondo dell'impresa digitale soprattutto in maniera anche un po' creativa. Quindi abbiamo aggiunto anche la parte influencer e gamer che può essere quella che è più accattivante per i più giovani che però sia l'influencer che gamer sappiamo bene è comunque sia un imprenditore digitale. Come tale ha bisogno delle basi e ha bisogno delle competenze. Il nostro percorso di formazione mira a portarli da un'idea fino alla creazione dell'impresa stessa e quindi è un affiancamento che si basa su dei seminari e poi delle consulenze individuali dove la persona viene affiancata da dei professionisti e a seconda della propria idea di business riesce poi effettivamente a svilupparla. Per iscriversi si può farlo tramite il sito www.progettoestro.it andando nella pagina del corso di formazione di Fano Influencer Gamer Impresa Digitale oppure tramite il sito www.digitalsmart.eu anche lì andando nella pagina del corso Influencer Gamer Impresa Digitale. Assessore è un'importante opportunità per tanti e tante giovani sul tema del digitale? Sono opportunità e le opportunità vanno colte e vanno colte adesso quindi invito tutte le persone, tutti i ragazzi che sono nell'età per usufruire di questi corsi di questa opportunità assegnarsi a partecipare perché sono dei corsi gratuiti di formazione che danno anzitutto una prima formazione base su quello che è il marketing e il business ma poi aiutano a sviluppare la propria idea legata al digitale non solo sono gratuiti ma a fine corso viene anche riconosciuto 400 euro a ogni partecipante che può impiegare come preferisce può fare qualsiasi cosa con questi 400 euro meglio se magari investe nella sua attività non solo, siccome la regione a breve uscirà con il bando creazione d'impresa chi fa questi corsi poi aiuterà i giovani che hanno partecipato al corso a strutturare la domanda per il bando di creazione d'impresa se hanno una domanda da fare quindi è veramente un'opportunità quindi approfittatene e se il comune non dà massima visibilità a queste opportunità non fa il suo dovere quindi da assessore cerco di spronare di dire dite ai vostri figli, parenti o voi stessi iscrivetevi grazie